ok no l'unica cosa non so se ce la fa no e costa eliche non ce la fa non so se ce la fa non so se ce la fa non so se ce la fa si ce ce la fa ok no Rordeaux Sultan Aggreみ si Sim Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.